Vai, vai, doppio, vai! Vai, 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 vai! 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 occhio che lì c'era il gradino prima, lì c'è il gradino, mi sai sì l'hai preso, vedi un po' prova, 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 qua c'è il gradino, qua non lo so tanto la corrente per quando è grosso ti si porta oh fatemi vedere sta saliscendi, fammi vedere come funziona l'altra